Ciao amici, benvenuti nel mio canale. Oggi condividerò con voi nuove notizie da Oj Gurel e Serkan Kayoglu. Oj Gurel e Serkan Kayoglu, uno dei nomi più importanti della Turchia, sono sposati da tempo. Serkan Kayoglu e Oj Gurel, che si sono sposati in un matrimonio magnifico e affascinante in Italia, hanno condiviso le loro magnifiche notizie e immagini con i loro fan e hanno rilasciato dichiarazioni interessanti. Il punto in cui queste dichiarazioni di Oj Gurel hanno suscitato speculazioni è il punto in cui la famosa attrice Oj Gurel, che non ha detto una parola sulla sua vita amorosa per molto tempo, ha rotto il silenzio mentre parlava con la madre su YouTube. Amo l'amore e l'essere innamorato. Le farfalle volano dentro di me. Ma per me l'amore non è più 24 ore su 24. 7 giorni su 7. Quella celebrità di cui ti sei innamorato era Kartal. Quando eravamo bambini facevamo riproduzioni e coreografie. Credo nell'amore a prima vista. Ma l'ultima volta che l'ho vissuto è stato il mio primo amore. Avevo 17 anni e lavoravo come cameriere in una discoteca. Ho visto il punto e sono stato colpito. Poi siamo stati insieme per sei anni. Farò qualsiasi cosa per il mio uomo. La comprensione dell'uomo è già sul punto. Tutto sta accadendo. Oj, se dovessi darti un consiglio, ti rilasseresti? Punto. E poi ha detto. Ho incontrato l'amore della mia vita. Serkan. E sono molto felice. Farei qualsiasi cosa per il mio amore. Oj Gurel ha ammesso che la sua relazione con Serkan Kayoglu è stata magnifica e affascinante. Cari spettatori, arrivederci a vedervi in questi nostri nuovi video per ora.